misteri del bel paese benché la cronaca quotidiana non faccia che dare ampiamente notizia di regolamenti di conti le nostre finanze non si aggiustano mai questo è molto altro in dei hospital malesseri passeggeri di giuseppe rosato prefazione di massimo pamio edizioni mondo nuovo tra malanni fisici di origine naturale o violenta e disagi di varia altra natura viene da pensare che stiano con noi malesseri diffusi al punto che se fossero da ricovero la terra sarebbe tutta un dei hospital ma in dei hospital pensiamo subito ci confortiamo ci stanno malanni di ordinare amministrazione mentre disagio e malessere di altra natura li viviamo per così dire liberamente all'aria aperta e sono le tante follie minute manie ossessioni presunzioni di grandezza tentazioni di potenza e via dicendo questo libro si propone di notificare in alcuni casi ma di cui si possa parlare con leggerezza anche con ironia come volendoci passar sopra a fior di sorrisi l'illustre avvocato principe riconosciuto del foro da qualche tempo non è più lui si è fatto un bratile irascibile si lascia vincere da repentine crisi di nervi non azzecca più i meravigliosi passaggi oratori che lo avevano reso celebre che si è già entrato nella meno causa che presuntuoso scrive le sue lettere anonime incominciando sempre così lei non sa chi sono io se flaiano aveva detto che la poesia è una vita di scorta alternativa a quella spesso non proprio bella che ci tocca vivere e soffrire sembra lecito parafrasandolo dire che una vita di scorta può essere anche l'umorismo quando a fronte di situazioni serie reali o montate ad arte da chi paradossalmente intende trarne vantaggi ci sentiamo disarmati e impotenti può venirci voglia di evaderne ridendoci sopra anche malamente magari con una battuta o uno sberleffo ma i casi di cui si occupa questo libro non sono propriamente clinici ed anzi vorrebbero mostrarsi tali da non destare preoccupazione alcuna come trattandosi di anomalie e leggere di che è fatta si sa la normalità della nostra vita prima di mettersi a letto il masochista apre il computer e controlla entità e numero dei mali goduti nella giornata grande esclama felice oggi ho peggiorato il mio record è stato detto che la donna è il grano della vita ed è vero oggi più matura e invecchia e più biondeggia sentendosi abbandonare dalla ragione il vecchio andava disperatamente cercando un reggisenno giuseppe rosato per l'uscita del suo libro elettrata nel novantesimo anno grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti